musica 8 proprio si siamo in 8 ok 8 8 quindi facciamo tipo un casino della madonna e abbiamo deciso di fare questo perchè vota jagged votate jagged come io lo dico ok hanno capito mamma mia che forti ragazzi che forti stai tutti là vai perfetto così non dobbiamo neanche tagliare la mezz'ora devo dire che questa è già la seconda volta che io e Bart proviamo a fare tutta questa brutta gente e corti che non si sta un attimo zitto glielo diciamo un bacio corti un bacino un bacino e ti giuro guarda che non cioè non c'entra niente però vabbè andrà a 97 grid è online e quando partirei sto partita 0-2 all'inizio poi 32 gameplay io guarda per fortuna perchè ho delle classi di merda proprio di merda ho 5 classi mi sa che te danno il computer e il computer si c'è stato il computerino la stanno col macbook e mi tirano un'arma capito abbassa il culo di sicuro non è così però vabbè insomma stiamo là col computerino in poche parole va bene i tuoi argomenti del gameplay è meglio ecco allora questo gameplay è totalmente in live non so qualcosa per farvi capire che è live c'è il mio joystick ne so fatti una pippa in live è in live vabbè comunque sia sono l'host si cosa sono l'host lui è host si sono anche su skype in più mi hanno ucciso proprio della serie c'è uno che c'ha una tacca vabbè ragazzi tanto io farò schifo anche da host tu fai sempre cagare ok chi vincerà questa partita l'host l'art art però devo dire grazie che dovete provare oddio oddio che è che non muoio vabbè starma di merda però va bene io non muoio ragazzi è testato è certificato dalla nasa ragazzi io non muoio ma che fa no non riesco a giocare con starma eh lo so Bart fa un po' schifo sta oddio ho fatto 3500 hit marker e questo gameplay mi sta prendendo una cifra ragazzi lo faremo più spesso perchè io sono host con questa gente con brutta connessione quindi aspettatevi molti gameplay su questa modalità di cui c'è uno Ekaton quel bastardo si impegna quando giochiamo capito ora mi devo impegnare anch'io ora Bart tu parli io sto zitto ma che devo parlare io ma che devo dire tu parli allora Bart non muore c'è assurdo ragazzi non riesco a vincere da host è perchè lui deve fare il gran gameplay hai capito è certo io devo fare big money con il gameplay ragazzi quindi c'è mi pagano per il gameplay a me forse non te l'hanno detto cos'è starlo vabbè lui si mette contro l'host ragazzi non fate anche caso ai no no dicevo non fate caso ai mille ai mille mila inviti che mi arriveranno però vabbè non fa niente eeeh bella lì c'è uno dietro mamma mia ragazzi cioè hai visto no hai visto ti stavo dicendo vabbè ma che so starmi che merda ma questa è bella si mp7 è bella dai è strogeggiante guarda guarda mamma mia mamma mia barto spawn kill è una merda ragazzi ragazzi vai vai ora giochiamo ti voglio ora mamma mia ma come si fa a giocare con questa cosa è orrido orribile ti hanno ti hanno ma fa schifo ma come si fa a giocare con questa cosa il fatto è l'acog perché si è pure forte mamma mia ho fatto un quick scoppy quick un nescooppy un nescooppy kill live ragazzi quindi ma io perché ho più kill ma sto perdendo perché ho meno hekaton fa più punti anche se fa meno kill vabbè già screek qui che è live ragazzi vabbè non buga ragazzi non buga sono penultimo attenzione vabbè ma tu sei troppo forte barto si sa no guarda guarda chip chip mazza ragazzi lo farò vedere con calma però alle mamma mia che sfiga ragazzi queste cose mamma mia fanno veramente schifo comunque mister zazzi mortacci sua se ficasse qualcosa dentro il chiappone perché me sta sempre a uccide e queste queste armi fanno veramente schifo vabbè barto non muore vabbè quest'altro non muore comunque sono comode queste partite così perché ci facciamo guarda ora che sappiamo che si possono fare i gruppi andare a giocare così a culo insieme così bagghiamo a vita ci facciamo proprio i peggio prestigi infatti sì io non lo sapevo comunque sì io sono quello che fa più kill ma fa meno punti di tutti e sono terzo infatti però non capisco il perché ora sono quarto cioè mi devi che è starm è starm è quella con rumino con rumino rumeno con mirino rumeno fa proprio schifo questo mirino guarda 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 è una cosa fa schifo ragazzi comunque ripeto vi consiglio di provare questa modalità ma è una modalità carina alla fine è per cambiare sempre sul dominio sempre su tutte le no no io in dominio non ci vado mai eh non mi accusare di andare in dominio perché io non ci sto mai in dominio no io invece ci sto vabbè io faccio il marker da host comunque se continuo a dire che c'è gente c'è gente buggata in giro perché comunque sia tu non mo non mi puoi di che non c'è gente buggata come questi qua come sti bastardi pure se hai buggato io so buggato eh guarda tacci tu non mori cioè se hai due tacche e spari prima di me che ce ne ho quattro bocchi fatti due domande però eh comunque sia ragazzi immagina vuoi comunque sia ragazzi farò tanti di quei gameplay perché quando sono ostri mi sento proprio super eccitato ragazzi a cazzo comunque sia sai che non faccio tempo a recuperare c'ho solo per fare una kill un altro che giante kill mamma mia che schifo undici secondi ce la posso fare no ce la posso fare quattro secondi tre no ce la stavo per fare eh che non vince ragazzi Bart vabbè io ho fatto venticinque kill più di Bart ma vabbè ragazzi comunque sia comunque sia sentite stanno facendo un casino dell'amato stanno facendo un casino ragazzi comunque davvero Bart o grazie per essere stato con me e ci vediamo nel prossimo live commentary bella da ridinei grazie a tutti grazie a tutti